Spero che, cioè, a me sta venendo da ridere Cioè, non è normale Partiamo dal presupposto che ti vede subito che lo sportello è aperto, no? Ma metteci la mano! Tre metri di finestrina aperto col bastone Ma poi il senso Cioè, la bambina apre lo sportello E prende il bastone invece che il coso della macchina Io ve...